Oltre 200 comandanti di yacht da tutta Italia riuniti a tavola per una grande cena di gala benefica. È in programma giovedì 7 dicembre, Principe di Piemonte, per il terzo anno The Crew Network Christmas Dinner, organizzato dall'omonimo gruppo Via Regino. La lotteria di beneficenza quest'anno finanzierà il progetto Dopo di Noi, centro polifunzionale previsto a Lido, per ospitare e rendere autonome persone down rimaste senza genitori. Siamo riusciti quest'anno ad acquistare il terreno all'Ido di Camaiore, adesso stiamo risolvendo alcune problematiche di carattere amministrativo e speriamo ben presto di iniziare a posare la prima pietra. Lo scorso anno furono raccolti 10.000 euro e quest'anno l'obiettivo è raddoppiare. Saranno invitati 200 persone, tra cui 120 comandanti e 80 persone del settore, dove ci sarà una lotteria di beneficenza, il cui ricavato sarà donato anche quest'anno all'Associazione Italiana Persone Down. Il gruppo Via Regino The Crew Network ha lanciato intanto due progetti per valorizzare due professionalità legate alla nautica, gli chef di bordo e gli steward, con l'obiettivo di dare il via da Via Reggio ad una nuova era dell'accoglienza offshore. Abbiamo oggi circa 200 persone che ne fanno parte, vogliamo trovare dei ragazzi nuovi, speriamo di riportare in auge il Made in Italy e di far conoscere nuovamente il settore del diporto e il Dipartimento degli Interni. Questa associazione quindi ad oggi ha circa 100 chef italiani specializzati che attualmente lavorano nel mondo della nautica e si è prefissa nei prossimi anni di formare nuovi chef sempre di altissimo livello e di affermare, consolidare e promuovere l'italianità, la professionalità degli chef italiani nel mondo della nautica.